Amici di milan.soccer eccoci un nuovo appuntamento con voi un nuovo appuntamento dedicato al milan ben ritrovati a tutti coloro che frequentano il canale benvenuti a tutti coloro che per la prima volta scoprono questo canale vi ringrazio a tutti indistintamente vi chiedo come sempre l'iscrizione al canale qui sotto e il like se vi fa piacere a questo video grazie a tutti coloro che lo faranno un saluto un saluto a tutti quelli che mandano dei messaggi su questa sulla nostra chat eccetera 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 insomma stiamo un po insieme tutti i giorni allora che cosa sta succedendo avete visto la copertina bene ora ne parleremo approfonditamente però prima lasciatemi dire che la stagione fallimentare si completerà definitivamente nel caso in cui il milan primavera non dovesse centrare neppure il playoff infatti il pareggio l'ultimo pareggio della squadra di ignazio abate 1 a 1 ottenuto contro il lecce non ha permesso ai giovani rossoneri di scavalcare il sassuolo sassuolo in classifica che nel corso del weekend è uscito sconfitto dalla trasferta di empoli nulla però è ancora perduto infatti la squadra di abate ha ancora a disposizione due partite di campionato per riuscire a centrare l'obiettivo il sogno che fino a un anno fa era pura utopia nelle prossime settimane il milano infatti dovrà affrontare prima il frosinone ultimo in classifica speriamo di vincere poi il torino in uno scontro diretto che permetterà ad una delle due squadre se non addirittura ad entrambe di accedere ai playoff insomma la classifica in questo momento vede ancora l'inter al primo posto poi la roma l'atalanta la lazio il torino il sassuolo e il milan con 47 punti assieme al genoa chiudono appunto il frosinone che è già retrocesso e poi sandoria bologna eccetera va bene va bene va bene va bene ma veniamo alle cose che più ci interessano c'è poco da stare allegri questa poteva essere questo poteva essere il titolo di questo video però abbiamo voluto dare un'indicazione in più e cioè che in questo momento il cambio di panchina la panchina del milan dipende paradossalmente anche un po da allegri e ora cerchiamo di capire perché prima facciamo però una panoramica ieri è stato il giorno un po della verità anche se poi ci si aspettava qualcosa di più andrea andre via sbora boas via sbos andre via sbos si è seduto ha parlato insomma con sergio con seissau e hanno cercato di capire come poter sbrigare sbrigare un po una matassa ingarbugliata infatti l'allenatore vuole con seissau vuole il milan per quanto ha un contratto con il porto fino al 2028 l'allenatore diciamo che secondo alcuni giornali gode del sì della dei tifosi del milan io ho fatto un sondaggio tra di voi e devo dire che molti hanno detto sì se l'alternativa magari era lopeteghi però rispetto a pioli per molti di voi non è un grande passo in avanti per me sì perché un uomo che sa lavorare molto sotto pressione intanto lopeteghi l'avevamo già detto se ne va al west ham e si è chiuso tutto con una telefonata di slatan ibrahimovic che ha comunicato la decisione del milan con seissau può liberarsi unilateralmente dal contratto fino firmato fino al 2028 con l'ex presidente da costa ma richiedere diciamo andiamo un attimo sul contratto perché avevamo detto che c'era qualche problema sul sull'importo in realtà con seissau accetterebbe il limite imposto dal milan di quattro milioni a stagione però ci sono ovviamente anche altre alternative ne sono uscite un po di tutti colori tanti nomi su tutti uno ad esempio il maurizio sarri però è un'operazione che stenta a prendere piede in parte qualcosa si è mosso per roberto martinez e mark van bommel il milan ha telefonato sia al primo che al secondo martinez ha però un europeo da giocare e van bommel invece lascerà all'anversa ma piace e non poco al fai road resta da capire se il milan non abbia in testa una pazza idea gli ultimi giorni vedono ancora viva l'ipotesi di antonio conte e allora perché antonio conte come abbiamo detto in copertina è un po meglio allegri come abbiamo detto in copertina e l'uomo da cui dipende tutto perché le alternative per antonio conte sono due juventus e milan ora si tratta di capire qual è il futuro di allegri sulla panchina della juventus e se resterà oppure meno la juventus oltre a tiago motta sta valutando anche ipotesi un po più bizzarre vorrebbe riprovare ancora con antonio conte antonio conte dice sì alla juventus ma antonio conte dice sì anche al milan e dunque nelle ultime ore è venuta fuori questa ripeto bizzarra ipotesi in cui allegri ognuno torna un po a casa sua conte alla juventus e allegri al milan io che cosa vi devo dire riporto quelle che sono le informazioni parlo anche delle mie sensazioni ora ho letto che a qualcuno le mie sensazioni poco importa ma evidentemente non è che attraverso un messaggio mi si fa cambiare idea piuttosto preferisco che chi manda questo messaggio cambi canale e allora la mia idea o sensazione se vogliamo ma in questo caso non è tanto una sensazione quanto un pensiero il pensiero è che dopo aver visto la juventus di quest'anno pensare a allegri come ad un gioco ad un allenatore che possa rilanciare il milan mi fa mi spaventa cioè allegri uno che non fa giocare le squadre ed è uno che addirittura un uomo come chiesa tra l'altro si sta parlando di chiesa al milan in realtà chiesa che ha detto anche di non avere molta simpatia per noi quindi stai bene dove stai sarebbe molto vicino alla roma ma torniamo ad allegri a me personalmente allegri non entusiasma allegri è una minestra riscaldata allegri è un uomo ormai come dire porta bandiera della juventus e direte voi sì figuriamoci conte avete ragione però a me conte uno che dà in un certo qual modo più fiducia per le possibilità che gli possono essere concesse ovvero il contratto accetterebbe i 4 milioni visto che gerry cardinale non è così intenzionato ad aumentare la cifra e ancora dei giocatori che ci sono ora nel gruppo milan e comunque quelli che si andrebbe a comprare qual è il budget a disposizione insomma aspettiamo le decisioni di giuntoli e di allegri per capire se questa ipotesi è un'ipotesi fattibile certo è che il tempo che passa ci fa sempre più comprendere come il milan non abbia le idee chiare o perlomeno le aveva ma a quanto confuse cioè l'opeteghi che è una figura che onestamente è assolutamente improponibile per il nostro tipo di squadra di gioco di tradizione e poi c'è da dire che a parte rarissimi casi allenatori stranieri in italia non è che abbiano poi vinto così tanto qualcuno sì ma non così tanto quindi personalmente ritengo che un'ipotesi di un allenatore italiano possa essere un'ipotesi assolutamente più vantaggiosa e allora mi chiederete ma allora tu per chi sei? Io l'ho sempre detto io sono per Conte non mi dispiacerebbe Sarri però chiaramente De Zerbi e Tiago Motta sono dei giovani che mi intrigano e non poco va bene vediamo che cosa succederà ci sentiamo più tardi se ci sono novità ovviamente su questo canale le ascolterete bye bye